Ciao a tutti, questo è il mio primo tutorial, visto che qualcuno mi ha chiesto come faccio a fare i miei sfondi ho pensato di condividere con voi quello che conosco. Allora, prima di tutto vi faccio vedere cosa utilizzerò adesso lo sfondo sarà praticamente molto basato sui colori e tonalità di blu quindi io utilizzo degli spray, che sono questi, con l'entro dell'acquarello sciolto, proprio giusto una goccia utilizzo questo tipo di acquarello lo spray con l'acquarello è diluito, lecole per un effetto più intenso, eventualmente il sale e uno spray con l'interno solo l'acqua A presto! Grazie a tutti. Quello che vi dicevo prima dell'effetto del sale, questo è un pezzettino dell'effetto, vengono delle specie di macchiolino, comunque come delle piccoli effetti di neve, effetti magici io li chiamerei. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.